Ciao a tutti, io sono Francesca Trentini e vi do il benvenuto alla presentazione del mio romanzo Hypnosis, la profezia, uscito il primo settembre in autopubblicazione su Amazon. Si tratta di un fantasy contemporaneo, di un romance paranormale, la cui idea iniziale, quella della fase embrionale, era quella di scrivere della storia d'amore tra un essere umano e un essere sovrannaturale, un essere immortale. Mi sono chiesta come l'umana avrebbe reagito di fronte a un'entità di questo genere e come lui l'avrebbe coinvolta nel suo mondo. Scartando i vampiri, che amo comunque come creature, ho voluto creare degli esseri che fossero più luce che ombra e sono approdata a una specie immortale di un tipo ben preciso che però non vi dirò che tipo di creatura sovrannaturale è, perché fa parte della loro scoperta insieme con la protagonista. Gli immortali sono invisibili agli occhi degli umani, nel senso che vivono anche tra di loro fingendosi umani, benché provengano da una dimensione parallela alla quale solo loro possono accedere. Non sono fatti di carne e di sangue, sono molto più resistenti degli umani e hanno la capacità di soggiogarli con lo sguardo e ipnotizzarli tramite la loro bevanda naturale. Un cibo liquido che può mantenerli in vita tanto quanto un cibo solido ma che sugli umani ha l'effetto di una droga. In ultimo questi esseri immortali vivono a stretto contatto con la natura e hanno una società e una tecnologia dal sapore medievale. Però cosa sarebbe un fantasy senza una guerra in corso? Infatti pur essendoci degli immortali che vogliono vivere a contatto con gli umani, alcuni di essi sono convinti della loro superiorità, al punto di voler annientare gli umani come inutili esseri che occupano inutilmente la dimensione che spetterebbe agli immortali insieme a quella da cui loro provengono. A questo punto gli ingredienti erano pronti, bastava solo creare la protagonista, l'ignara umana attraverso la quale viviamo l'intera vicenda, raccontata da lei in prima persona. Si chiama Annabel, ha 21 anni e frequenta l'ultimo anno di università come laureanda in letteratura moderna. Ha una vita tranquilla, è brillante negli studi e si dedica ad attività di volontariato. Insomma una persona a posto, con una vita normale e anche con un grande cuore. La sua vita però viene sconvolta quando a lezione lei incontra Lucrezia, una nuova collega universitaria. Annabel intuisce subito che si tratta di una persona particolare, avverte la sua energia ed è come se fosse solo lei in grado di farlo. In quel momento qualcosa cambiò. Un soffio d'aria mi solleticò le narici con un delizioso profumo di mimose, distraendomi. Un pensiero in secondo piano mi sfiora la mente. Era settembre non proprio la stagione delle mimose, ma essendo per l'appunto un pensiero secondario non vide di peso. Poi però la sensazione divenne troppo intensa per ignorarla e ne cercai la fonte con lo sguardo. Una ragazza mora, dalla pelle burnea, si sedette al mio fianco, appropriandosi dell'ultimo posto della fila. Mi osservò con un paio di occhi bizzarri, le cui iri di verdi cangiavano in sfumature blu liquido e sembravano catturare la luce. Era così strana e perfetta che per un momento mi chiesi se fosse vera. Lucrezia incanta Annabelle e la trascina quasi senza volerlo nel suo mondo, soprattutto quando le fa conoscere Anton durante un concerto. Anton è il suo principe, però spesso bazzica la dimensione umana in qualità di cantante di un gruppo metal. La fazione di cui fa parte è quella dei cosiddetti pro-umani, gli immortali che vorrebbero svelarsi all'umanità e vivere insieme ad essa. L'incontro tra Annabelle e Anton è un colpo di fulmine da parte di entrambi. La musica mi risucchiò, cupa ma melodica, rimbombandomi nelle viscere. Quel genere non faceva per me, ma dovevo ammettere che i ragazzi sul palco sapevano suonare. Una strana sensazione mi strappò dai miei pensieri. Era una sensazione che conoscevo, ma non aveva senso provarla in quel momento. L'energia che ormai mi era familiare permeò l'ambiente e mi ancorò saldamente alla terra. Fu in quel momento che entrò in scena. Con lo sguardo fisso sul pavimento e i capelli che gli coprivano il viso, il quinto membro raggiunse il microfono. Il pubblico lo accolse con un entusiasmo tale da sovrastare la musica. Il ragazzo alzò la testa e cominciò a cantare. Fu uno shock. Attorno a me la gente si scatenava, ma era come se non esistesse. Per me in quel momento esisteva solo il cantante. Rimasi immobile mentre la forza ignota continuava a schiacciarmi a terra. Non potei fare altro che ascoltare il suono della sua voce, potente e morbida al tempo stesso. La perfezione del suo volto era tale da mozzarmi il respiro. L'osservai per tutto il concerto, desiderando che posasse su di me i suoi occhi blu e intensi. Ero determinata a registrare ogni dettaglio del suo aspetto, dalla mascella volitiva agli zigomi ben delineati, dai capelli corvini che scendevano lungo la schiena, alle spalle larghe. Mentre la sua voce mi avvolgeva, la realtà si deformò e perse ogni significato. Il mondo era troppo mediocre per essere onorato dall'esistenza di una creatura tanto nobile. Questo fu l'unico pensiero coerente che ebbi, riempita dalla sua voce e dalla sua presenza. La fine del concerto, uno shock altrettanto potente. Il cantante scese dal palco insieme agli altri musicisti e scomparve dalla mia vista. La sua improvvisa assenza mi lasciò una voragine nell'anima. Mi aveva resa dipendente da lui al primo sguardo. Che cosa hai fatto durante la tua assenza? Ero curiosa di sapere cosa gli fosse successo nel lasso di tempo durante il quale Lucrezia aveva perso le sue tracce. Dopo la sera del concerto? Mi sono imposto una specie di ritiro spirituale per scrivere nuovi brani. Devo ammettere che è stato un periodo proficuo, ero molto ispirato. Spero di sentire presto le tue nuove canzoni. Apri una bustina di zucchero e rovesciai tutto il contenuto nella cioccolata. Poi afferrai il bignè con l'intenzione di dare un bel morso. Ci puoi scommettere che te le farò ascoltare? Sono tutte dedicate a te. Mi bloccai con la bocca spalancata e il bignè in mano. Lo rimisi nel piattino facendo sollevare una nuvoletta di zucchero a velo. Come scusa? Gli occhi di Anton ripresero a luccicare e sul suo volto tornò l'espressione tenera e allo stesso tempo misteriosa che mi faceva girare la testa. Ho visto un angelo e non ho potuto fare a meno di pensare a lui. Da quella sera hai occupato la mia mente con tutta te stessa. Annabelle, sei la mia musa ispiratrice. Sentir pronunciare il mio nome da lui, scandito come solo lui sapeva fare e la rivelazione che il mio sentimento per lui era reciproco, mi mandarono sull'orlo dello svenimento. Quanti giorni inquieti e quante notti insonni avevo sognato che accadesse una cosa così. Quello che Annabelle non sa è che la scacchiera della guerra tra pro-umani e i loro nemici anti-umani è già pronta per la partita. Ne è ignara anche la prima volta che entra nella dimensione di Anton e Lucrezia. In questa occasione Lucrezia le svela che lei non è una semplice umana, bensì la probabile fautrice di eventi che porteranno alla realizzazione di un'antica profezia. Una profezia che parla della guerra e di come essa finirà, ma affinché essa si avveri anche Annabelle dovrà diventare a sua volta immortale. Quello che né Lucrezia né Anton sanno è che gli anti-umani sono già sulle tracce di Annabelle e cospirano per distruggere Anton. Questo non è che l'inizio della storia, lascio quindi gli aspiranti lettori scoprire il mondo di Anton insieme ad Annabelle, di tutta la parte fantasy e di come lei dovrà cavarsela con gli anti-umani, quei loro trucchi, i loro inganni in un mondo a lei completamente estraneo. Infatti qui lei dovrà affrontare il nemico di Anton, quello che tra tutti gli immortali è il più spaventoso e crudele, il principe Arthos. Così come tutti i personaggi che animano la storia, personaggi dal fascino oscuro, spesso contorto, dal sapore decisamente dark. Un paio di occhi diametista mi osservavano con intensità. La femmina che mi stava pettinando era bellissima. Grazie alla pelle nivea dai riflessi verdi capì che non era umana. Emanava un intenso profumo di gelsomino. La bocca dipinta di nero spiccava in contrasto con la pelle di diafana. Lunghi capelli dai riflessi blu le cadevano sulle spalle e sul corsetto nero. Le sue labbra si muovevano, intonando una canzone che non riuscivo a udire. Accorgendosi che la stavo fissando, la femmina interruppe il suo canto e si aprì in un sorriso voluttuoso, tanto affascinante quanto letale. Benvenuta nel nostro palazzo, disse con una voce che mi fece quasi svenire di nuovo. Calda, avvolgente, lievemente roca, sensuale. «Cosa ci faccio qui?» domandai Rauca, ma non mi aspettavo una risposta. La femmina mi permette l'indice sulle labbra per zittirmi. Il suo dito non era né caldo né freddo. Era neutro, esattamente come il tocco di Anton. Questa notte il demone innamorato della propria lussuria avrà l'angelo di un altro e si chinò a baciarmi sulla bocca. Al momento Hypnosis, la profezia, è uno stand alone. Ma ho volutamente lasciato alcuni spazi aperti per poter proseguire un domani con la vicenda, magari vista con gli occhi di un altro personaggio. Insomma, potrebbe diventare una vera e propria serie. Ho scelto di ambientare questo romanzo in Italia, più precisamente nel territorio prealpino e tra le Alpi, luogo in cui sono nata e che da sempre esercita su di me un fascino magnetico, con le sue montagne dalla punta guzza, i suoi boschi fitti e incontaminati. Con le Alpi sullo sfondo possiamo dividere il romanzo in tre macro categorie nelle quali si snodano le cinque parti del romanzo. Si parte dal contesto urbano della Milano attuale, poi si passa alla dimensione degli immortali, da piccole città costruite nelle radure, a fortezze dall'aspetto sinistro e dai richiami gotici, a palazzi in marmo bianco e dai dettagli architettonici raffinati. Spero che questo breve viaggio alla scoperta di Hypnosis, la profezia, abbia stuzzicato la vostra curiosità. Trovate maggiori informazioni nei dettagli o nei commenti. È disponibile sia in versione cartacea che in ebook, anche con l'abbonamento Kindle Unlimited. Un ultimo avvertimento che mi pare doveroso. Si tratta di un romanzo per un pubblico maggiorenne. Contiene parecchie scene esplicite di intimità e di torture. Non adatto quindi a un pubblico sensibile. Vi ringrazio per la vostra attenzione e mi congedo leggendovi la quarta di copertina. Un caro saluto a tutti da Francesca. Cosa faresti se un giorno scoprissi che una specie immortale, proveniente da un'altra dimensione, vive in mezzo agli umani e progetta di annientarli? E se tu fossi la chiave per la salvezza dell'umanità, descritta da un'antica profezia? È a questi interrogativi che deve rispondere Annabelle, quando al suo ultimo anno di università incontra la dolce Lucrezia e si innamora del misterioso principe Anton prima ancora di sapere chi e cosa sono. Ma la guerra è alle porte e gli eserciti degli immortali si preparano a combattere e Annabelle rimane coinvolta in complotti e scontri che lei non è pronta ad affrontare. Specie quando il nemico ha a sua disposizione un'arma infallibile. la capacità, come tutti gli immortali, di ipnotizzare e ingannare gli umani, facendo in modo che compiano atti che vanno contro la loro stessa volontà. Catapultata in un mondo che non ha mai visto prima, Annabelle dovrà trovare il coraggio di sconfiggere il crudele Arthos e la forza di riunirsi ad Anton perché l'amore e il destino sono le uniche armi che ha a disposizione. Un'intensa storia d'amore e di lotte ambientata in un mondo in cui realtà ordinaria e straordinaria sono divise da un confine fragile come un velo.